A 50 anni dall'ultima grande partenza nel 1963, Napoli torna ad essere palcoscenico del Giro d'Italia di ciclismo 2013. La 96esima edizione della Corsa Rosa prenderà il via sabato 4 maggio dal capoluogo campano e si concluderà il 26 con l'arco d'arrivo in via Caracciolo. L'hockey ufficiale arriva da Milano dove il sindaco De Magistris è intervenuto alla presentazione dell'evento presso la sede di RCS Sport in via Solferino. Il Giro d'Italia è un risultato straordinario, ieri sono stato a Milano a firmare con RCS, Gazzetta e lo Sport, era 50 anni che il Giro d'Italia non partiva da Napoli. Le loro parole sono state di grande entusiasmo, quindi non erano le parole del sindaco, quello di poter partire dal lungomare liberato, l'idea di portare anche un messaggio, le biciclette che attraversano una città importante come Napoli, dobbiamo farci trovare pronti e lo saremo perché c'è molta attesa. La prima tappa del Giro 2013 partirà da Piazza Vittoria, la frazione toccherà poi alcuni tra i punti più suggestivi della città, Chiaia, Mergellina e Posillipo. La manifestazione durerà circa una settimana, la carovana sbarcherà a Napoli martedì 30 aprile ed il primo maggio partiranno le operazioni preliminari. Seguirà poi giovedì 2 l'incontro con i protagonisti a Castel dell'Ovo e la presentazione delle squadre il giorno seguente in Piazza Plebiscito. La carovana del Giro d'Italia sarà una settimana a Napoli, quindi anche un grande indotto economico, numeri enormi, la RAI sono 4 milioni, si parla di cifre importantissime, anche di giri economici per sponsor, lo sport significa anche rilancio della città, ma significa molto anche economia e posti di lavoro. Dopo una grande partenza già ospitata nel 63, 35 partenze di tappa e 41 arrivi, di cui uno finale nel 68, Napoli si conferma dunque nel suo ruolo di recente riconquistato di città protagonista dello sport. Subito dopo il Giro d'Italia, dal 14 al 19 maggio, il lungomare partenopeo ospiterà infatti le barche dell'America's Cup per le preregate del 2013. Grazie a tutti.